buonasera in questo appuntamento di quala zampa vi presento un animaletto simpatico e non eccessivamente diffuso nelle nostre casi ed è il gerbillo esistono più di 80 specie diverse di gerbillo ma solo quello proveniente dalla mongolia si è rivelato ideale per l'allevamento come animale domestico il suo colore è originale è color sabbia proprio perché si può mimetizzare nel deserto ma in commercio si trovano anche le mutazioni albine anche quelle nere o melaniche quindi più brunastre può vivere anche in gabbia ma la sistemazione nel terrario è senza dubbio quella più indicata si può tranquillamente utilizzare un vecchio acquario non più utilizzato oppure usare una robusta vasca di plastica che abbia almeno una base di 40 per 60 non l'arredamento di questa cassetta non ha bisogno di eccessivi spese ma praticamente si può usare un po di trucciolo come fondo o della sabbia d'argilla specifica per l'auditore o del tutolo di mais sarà sufficiente cambiare quotidianamente l'angolino dove il gerbillo è sporca e poi utilizzare una volta la settimana la sostituzione completa della lettiera ricordate che è un animale molto molto pulito e vivendo nel deserto a pochissima esigenza di acqua anche se non dovrete fargliela mancare la dieta è simile a quella di un coniglietto nano o di un altro uditore domestico potete trovare in commercio delle miscele già pronte oppure utilizzare appunto del mais dell'avena e altri cereali integrati con un po di frutta fresca che sicuramente lui gradirà bene per questa sera è tutto vi do appuntamento a settimana prossima con un nuovo appuntamento di qua alla zappa arrivederci